Residence Ventimiglia, a due passi dall'omonima torre nel cuore del centro storico di Gangi, risiedi in una dimora storica appena ristrutturata, nelle nostre camere dotate di tutti i comfort, assaporando la vista del borgo e i suoi prodotti genuini. Ascolta il silenzio dei suoi vicoli fioriti che puoi percorrere a piedi nel centro storico e tornando a casa, perdi lo sguardo nella valle sconfinata che si osserva dalla sua terrazza. Vienici a trovare! Grazie a tutti!